Una disabilità è semplicemente una sfida che le persone devono affrontare. L'unica differenza è che molta gente non l'affronta come tale. Avere una disabilità significa solo fare le cose diversamente. Raccogliendo un fiore, la cooperativa Nati Due Volte ha visto la possibilità di emancipazione dall'handicap. Si prefigge come scopo la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione di attività manuali per disabili fisici e mentali, per valorizzare i momenti educativi, riabilitativi, culturali e sociali. Tutti possono trarre benefici e vantaggi dal prendersi cura di piante e dallo stare a contatto con la natura. Si svolgeranno mansioni come la semina, la raccolta dei frutti e dei fiori, tutte quelle attività che stimolano l'olfatto, la vista, il tatto o l'udito e incrementano capacità e competenze. Serve amore, cura e dedizione per far crescere le piante e i fiori sani e vederli in salute donna grande soddisfazione. Avere le mani occupate nella terra, nella pratica di accudire fiori e piante, porta ad allontanare i pensieri negativi e a rilassare la mente e il corpo e a prendere responsabilità verso gli esseri viventi che si coltivano. I benefici come l'autostima e la fiducia in se stessi per le capacità acquisite e le scelte fatte vengono ripagati dalla pianta stessa che crescerà sana e forte.